Nasce a Castelvetere il centro sportivo polivalente Ajay Sport ideato dai fratelli Ravetta e John Lombardi grazie all'aiuto del comune e con la collaborazione dell'istruttrice di tennis Maddalena Gaeta l'idea dei due sportivi irpini principali interpreti del football e del take ball era in cantiere da tempo e nella giornata di ieri è stata concretizzata Sai, come ben sapete tutti quanti, avevamo proprio questo desiderio avere un punto nostro dove condividere appunto tutta questa passione per lo sport con altre persone quindi da qua, dalla nostra passione nasce questo spazio ringraziamo l'amministrazione che ci ha dato la possibilità appunto di gestire per un bel po' di anni questo spazio credi in noi, stiamo ancora facendo dei lavori, cercheremo sempre di migliorare il tutto ci saranno tanti sport, avete visto il take ball, il tennis, il basket ci saranno istruttrici di tennis, un istruttore Saverio, Maddalena che ringrazio che faranno corsi la mattina con i bambini, quindi siamo veramente felici noi condivideremo il take ball, quindi questa passione per cercare di far crescere anche l'avellino football in questo spazio Certo, diciamo come posizione Castelvedere è molto centrale noi abbiamo amici con, diciamo un po' a Montemarano, Chiusano, San Manco, Mondella, Lione quindi proprio con questi contatti che abbiamo cercheremo di condividere questo progetto con tutti i paesi qua, le mitrofi e quindi cercheremo, sono i benvenuti non solo oggi ma proprio durante tutto l'anno, quindi veramente non vediamo l'ora di condividere questo progetto con tutti loro. Sabi ci tenevo a ringraziare nostro padre perché veramente se vedi che tutto questo che abbiamo qua oggi è merito suo, di mio fratello, di mia mamma, diciamo tutta la famiglia ha collaborato tantissimo per veramente realizzare tutto questo, per rendere l'ambiente più ospitale possibile abbiamo camperizzato una roulotte dove appunto la useremo come magazzino e come punto, diciamo, per la società Nei prossimi mesi saranno ospiti della struttura alcuni vecchi campioni della Serie A Di sotto alla villetta, diciamo qua sotto, che è proprio uno spazio che stiamo col comune cercando di fare un campo con la sabbia, quindi un campo da football e proprio grazie a questo campo abbiamo già parlato con Mandino Manzini, con Aldair, ci vorranno venire qua a giocare con noi e a condividere questa passione insieme a noi, quindi non vediamo l'ora di allargare questo progetto è solo l'inizio. Centro aperto H24, Ravetta e John ci spiegano come soffrirne Esattamente, proprio per questo noi e mio fratello abbiamo pensato che a noi lo sport non ha orari infatti così possiamo giocare la mattina, così possiamo giocare la sera ma anche la notte noi siamo i primi che giochiamo a H24 e quindi abbiamo pensato che anche il nostro centro deve essere aperto a H24, tanto è vero abbiamo messo un codice alla porta quindi chiunque voglia giocare a uno dei nostri sport, basta che ci contatti noi gli mandiamo il codice dalla porta e a qualsiasi ora del giorno può aprirla e praticare qualsiasi sport